Probabilmente qualcuno già lo saprà, ma io adoro, adoro davvero tanto la provocazione e soprattutto adoro davvero tanto giocare con la mente umana. Stanotte, verso l'una, ho pubblicato un post sulla mia pagina Facebook. Era l'una e mezza, il festival di Sanremo era finito da pochissimo tempo e stamattina ho fatto un secondo post. I due post sono legati tra di loro, c'è una continuità. È un gioco che ho voluto fare e sono bastate veramente poche ore, meno di un'ora, per dimostrare che il mio esperimento è riuscito e che ciò che volevo fare ha funzionato alla perfezione. Volevo mettere in evidenza l'ipocrisia umana e ci sono riuscito alla grande. Cosa è successo? Stanotte ho fatto un post abbastanza articolato, abbastanza complesso, in cui parlavo dell'esibizione di Achille Lauro a Sanremo, posto che andremo a leggere tra pochissimo. Circa due ore fa ho pubblicato un secondo post in cui condividevo una fotografia di J.G. Hallen, musicista statunitense attivo tra il 1976 e il 1993, che è morto e che era famoso principalmente per lo squallore dei suoi concerti. Lui ha costruito la propria fama spogliandosi nudo sul palco, defecando letteralmente sul palco di fronte al pubblico, cospargendo il proprio corpo, delle proprie feci, imprimendosi delle ferite, si feriva sul palco, insomma, un spettacolo abbastanza disgustoso, doloroso, indecente per certi aspetti. Ho fatto questo post concludendo poi dicendo quindi per cortesia non venitemi a dire che Achille Lauro ha rotto gli schemi perché non ha fatto nulla di nuovo, non è il primo e non sarà l'ultimo artista o presunto tale a cercare di attirare l'attenzione su di sé facendo fondamentalmente delle stronzate per ovviare al fatto di essere un cantante mediocre per non dire stonato. Contemporaneamente alla pubblicazione di questo post su Facebook qui ho pubblicato un secondo post sulla mia pagina Facebook e su Instagram in cui mettevo in risalto una situazione analoga ma fatta dei musicisti di alto profilo. Mi riferisco a iV, mi riferisco a Jimi Hendrix, iV negli anni 60 distruggevano a fine concerto gli strumenti musicali, lo facevano per attirare l'attenzione, per attirare il pubblico, erano diventati famosi iV proprio per questo, iV erano quelli che distruggevano gli strumenti sul palco e nel 1967, durante il festival di Monterey, Jimi Hendrix cercando una soluzione, no, una conclusione, anzi alla fine del proprio spettacolo, alla fine della propria esibizione, Buddy Miles e il suo batterista propone di distruggere gli strumenti come facevano iV. iV però già lo facevano da qualche anno e non era una cosa nuova, no? Fai, distruggi gli strumenti, beh, fai un po' quello che già stanno facendo iV, già lo fanno loro, non ha senso ripetere la loro esibizione, quindi serve qualcosa di nuovo. Hendrix chiede una ricarica per l'accendino perché aveva finito la benzina del proprio accendino, qualcuno gli dice o fai attenzione a non far cadere la benzina sulla chitarra perché prende fuoco e da lì nasce l'idea, dar fuoco ad una chitarra sul palco, il manager manda il bassista, se non ricordo male, a comprare una ricarica per l'accendino e dar fuoco alla chitarra sul palco. Lo fa, lo fa a Woodstock, lo fa a Woodstock, lo fa a Monterey, lo fa nel 1967. Chiusura, spettacolo Hendrix che sta suonando con la chitarra in fiamme, immagine storica, immagine epica, scandalosa, distrugge gli schemi. Viene fatto per la prima volta da Hendrix e poi non viene ripetuto da altri. Perché non viene ripetuto da altri? Beh, viene anche in realtà ripetuto da altri, ma non è una novità. Se io oggi, durante un concerto, do fuoco a una chitarra, non sto facendo qualcosa di nuovo, sto facendo un qualcosa che è stato già fatto da Hendrix a Monterey nel 67. Vestirmi in modo strano su di un palco, durante un festival musicale, non è una novità. L'ho fatto Lady Gaga, l'ho fatto Madonna, lo hanno fatto centinaia di artisti dopo Lady Gaga e Madonna. Non è una novità. Non c'è nulla di anomalo, non c'è una rottura degli schemi. Eppure, per Achille Lauro a Sanremo, sembra che questo non valga. Si dice che lui ha rotto gli schemi, no, si sta dicendo lui ha rotto gli schemi, ha rotto i canoni, ha creato scandalo. Creare scandalo a Sanremo non mi sembra proprio fuori dal canone, fuori dagli standard, anzi, è totalmente inserito nel contesto Sanremese, è perfettamente inserito nel contesto Sanremese. Io ho fatto questo gioco, ho creato questo post provocatorio con l'immagine di Gigi Allen, ed è stato bellissimo farlo perché ho fatto un post vuoto, letteralmente vuoto, quel post che ho fatto è una fotografia con un commento del cazzo. È un post vuoto, superficiale, banale, provocatorio, privo di spessore. E cosa ho ricevuto di contro? Beh, gente che mi punta contro il dito e dice non puoi criticare Achille Lauro, questo paragone è superficiale, questo paragone è stupido, è una cosa banale, eh? Cosa? Banale? Mediocre? Non ha senso? Mi sono state mosse le stesse critiche, praticamente, che io ho mosso nel post precedente pubblicato dieci ore prima ad Achille Lauro. Vado quindi a leggermi quel post. A proposito di Achille Lauro a Sanremo e del perché ho perso il post e del perché si è spogliato sul palco dell'Ariston, la risposta, se ci pensate, è estremamente semplice. Achille Lauro è un cantante che non sa cantare. Stona. Lui stona. Veramente, stona. Se lo avete sentito dal vivo senza autotune, sapete di cosa sto parlando. Stona. Mette i brividi, cioè, non riesce a prendere una nota neanche per sbaglio. quando si è esibito lo scorso novembre, se non ricordo male, il settembre novembre al Club Tenco, per la prima volta da quando esiste il Club Tenco il pubblico ha letteralmente lasciato la sala. Fischi. Cosa è sta roba? Gente che si chiedeva cos'era. Tantissime persone hanno lasciato i tavoli e si sono allontanati dalla sala durante l'esibuzione di Achille Lauro che cantava lontano, lontano di Luigi Tenco al Club Tenco. Si sono allontanati perché quella canzone per quando non sia complessa a livello melodico è una canzone importante per la storia del club, per la storia di Tenco e lui l'ha cantata male, lui ha stonato. Una canzone che non richiede grandi capacità vocali, no, lui ha stonato. Qualcuno potrebbe dirsi ma perché hanno invitato Achille Lauro al Tenco? Perché il Club Tenco invita tutti gli artisti esordienti a Sanremo che partecipano al Festival di Sanremo che sono contestualmente sia autori che esecutori della canzone, quindi è stato invitato per una formalità. Generalmente però quando qualcuno sa di non essere all'altezza del Tenco e delle aspettative del Club Tenco anche se invitato non si presenta al Club Tenco. lui sì, lui ci è andato. Io ho apprezzato tantissimo Gabbani qualche anno fa che è stato invitato al Club Tenco e ha detto no, non ci vado. Ci è andato l'anno dopo ma l'ho apprezzato tantissimo perché ha detto la mia musica non è per quel festival, non è per il Club Tenco. Achille Lauro non si è fatto questo ragionamento, a lui serviva semplicemente un palco, serviva a far parlare di sé. Achille Lauro ruota attorno al far parlare di sé, ha costruito tutto il proprio personaggio attorno al far parlare di sé, cercare lo scandalo, la polemica. Dicevo, dicevo, quando si è esibito lo scorso anno al Club Tenco per la prima volta da quando il Club esiste, il pubblico ha letteralmente lasciato la sala perché disgustata dall'esibizione. Achille Lauro non è un musicista, non è un artista e non sa fare musica. Cosa ci faccia? A Sanremo sul palco dell'Ariston come concorrente in gara sembrerebbe non avere alcun senso, non avrebbe alcun senso se non fosse stato per lo show che ha messo in atto durante l'esibizione della prima sera perché quell'esibizione lo colloca perfettamente su quel palco e giustifica la sua presenza lì. Lui è un perfetto esempio di ciò che è Sanremo, di ciò che deve essere Sanremo. Che cos'è Sanremo? Sanremo non è solo il festival della musica leggera italiana. Sanremo è lo specchio dell'anima dell'Italia, riflette l'anima dell'italiano medio, dell'Italia in un dato momento storico. Achille Lauro ha dato al pubblico di Sanremo ciò che il pubblico di Sanremo desidera da sempre. Ha fatto il gioco del festival, dello show, ha fatto il gioco del pubblico. Lauro nella sua esibizione che qualcuno definirà indecente, io personalmente non la definisco indecente, non ha fatto altro che esaltare l'essenza pura ed eterna del festival di Sanremo e dello show business. Achille Lauro ha compiuto, ha chiuso un cerchio praticamente, ha fatto un'esibizione perfetta è bellissimo che la gente abbia letto questo passaggio come una critica, io lo sto esaltando, sto dicendo gli sto riconoscendo un merito, però vengo criticato perché non era palese il mio riconoscergli il merito o meglio il fatto che io gli riconosco un merito che non è quello che viene riconosciuto dalla massa, la massa gli riconosce come merito l'innovazione, la genialità, lo spirito artistico che non ha, io gli riconosco invece il merito di essere un buon showman di aver creato un buono spettacolo di aver fatto dell'intrattenimento degno del festival di Sanremo dell'intrattenimento mediocre per me Sanremo è mediocre e l'intrattenimento perfetto a Sanremo è un intrattenimento mediocre è stato lo scandalo Achille Lauro è stato lo scandalo che il festival cercava probabilmente è stato scelto per dare scandalo perché Sanremo non è Sanremo senza uno scandalo di qualche tipo Sanremo è la chiacchiera è la critica e mi si è spenta la luce Sanremo è la luce che si spente durante la diretta è anche questo è l'inconveniente tecnico costruito a tavolino Sanremo è la critica e lui è stato al centro lui è stato ed è al centro della critica è al centro della chiacchiera è al centro della polemica lui è la polemica lui è l'anima della polemica Sanremese di quella polemica futile serile vuota banale una polemica a cui Achille Lauro viene d'atto ha reso perfettamente omaggio con la propria performance è stato vuoto banale mediocre ed è stato perfetto nell'essere vuoto banale mediocre perché Sanremo se sei vuoto banale mediocre e sei la perfezione lui Achille Lauro Lauro che chiamano il posto perché è il suo poi effettivamente nome Lauro è il non artista sul palco più famoso d'Italia è l'esibizione prima di espressione e concretezza che cerca con ogni trucco possibile di attirare l'attenzione di ingannare il pubblico perché questo parli di lui e ci ha riuscito cazzo ci ha riuscito alla perfezione perché io ho fatto due post in cui parlavo di lui e ora sto facendo una diretta che poi ripubblicherò su Instagram TV in cui parlo di lui il suo giochetto ha funzionato il suo gioco era far parlare di lui non importa della canzone non importa cosa succede in quella canzone il testo chi l'ha sentito chi se l'è cagato si sta parlando non della canzone durante un festival al musicale si sta parlando della sua esibizione del modo in cui si è posto durante l'esibizione è riuscito ad attivare la critica è riuscito ad attivare la polemica è riuscito a monopolizzare parte dell'opinione pubblica per me Achille Lauro merita la vittoria da questo punto di vista lui ha già vinto Sanremo poi magari arriverà ultimo ma lui ha vinto ha vinto tutto ha vinto tutto ciò che si possa vincere dal festival i medagli le premi i riconoscimenti non valgono nulla non contano nulla ciò che conta e lo dirò più avanti nel post è che il cliente paghi il biglietto e signori io lo sto pagando il biglietto da Achille Lauro in questo momento parlando di lui sto facendo ciò che lui voleva ne sono consapevole ne sono perfettamente consapevole e lo faccio di proposito lui Lauro è il non artista sul palco più famoso d'Italia è l'esibizione priva di espressione e concretezza che cerca ogni trucco per possibile per ingannare il pubblico e far parlare di sé anche se non ci sarebbe nulla e sottolineo nulla da dire perché perché bisognerebbe parlare si ritorna sempre al solido punto è un festival canoro è un festival musicale bisogna parlare della canzone e non c'è nulla da dire sulla sua canzone non c'è un contenuto non c'è un'espressione non c'è un messaggio non c'è un raccordo non c'è un racconto non c'è nulla non c'è motivo per parlare della sua canzone ma lui ci riesce riesce comunque a far parlare di sé mi sono perso nel mio post per far parlare di sé ingannare il pubblico anche se non ci sarebbe nulla da dire perché se si e questo perché perché lui vince facendo parlare di secco perché se si parla di te a Sanremo allora si vince allora vinci tutto l'ho già detto lui per me ha vinto e non importa se il festival lo si vince o lo si perde ciò che importa è che il cliente come dicevo prima paghi il biglietto e Achille Lauro nel più assoluto nulla cosmico della propria esibizione di biglietti ne ha incassati tanti ne ha incassati tantissimi compreso il mio e probabilmente anche il vostro anche il tuo Bianca che mi stai ascoltando in questo momento e da questo punto di vista ripeto lui ha vinto lui ha vinto tutto e va applaudito gli va riconosciuto questa grande vittoria mi dispiace però allo stesso tempo ciao Leonardo mi dispiace per quelli che pensano che con la propria buffonata Achille Lauro abbia rotto gli schemi di Sanremo che abbia ridisegnato il panorama musicale che abbia innovato non ha fatto nulla di ciò mi dispiace per quelli che pensano che con la propria buffonata Achille Lauro abbia rotto gli schemi di Sanremo perché se pensate questo allora non avete capito Sanremo non avete capito il festival non avete capito l'essenza di questo festival della musica italiana che con la musica non ha nulla a che vedere Sanremo qui parlo da storico Sanremo è il riflesso del tempo il riflesso della società umana il della società italiana è lo specchio dell'anima dell'italiano medio Sanremo è lo spettro dell'Italia che racconta l'Italia attraverso i propri luoghi comuni attraverso i propri giochi di prestigio artistici e le infinite polemiche e discussioni tipiche di questo paese attraversa i flussi le correnti i pensieri le idee di un determinato momento e cos'è in questo momento l'Italia se non l'esibizione di Achille Lauro Sanremo è una cronica è una cronica dell'Italia contemporanea anno per anno noi attraverso Sanremo possiamo definire la società italiana in ogni anno in ogni momento a volte sale a volte scende il suo modo d'essere cambia e nel suo cambiare cambia anche il festival cambiano le vesti del festival che cambiando di continuo in modo gattopardesco rimane sempre uguale Sanremo è una cronica della storia d'Italia che ci racconta le mode le tendenze le ambizioni e le credenze degli italiani che racconta l'Italia e gli italiani e racconta cos'è l'Italia oggi e cos'è l'Italia oggi anzi se non la perfetta incarnazione dell'esibizione di di Achille Laura cos'è l'Italia oggi se non quell'incarnazione ignoranza cattivo gusto incapacità esternate in modo ciao Bram ignoranza cattivo gusto e incapacità esternate messi in scena messi in mostra esibiti con fierezza esibiti con estrema fierezza lui è su quel palco che esibisce la preda ignoranza in modo fiero in modo orgoglioso ecceggente che si batte i pugni sul petto e che lo difende che difende quell'ignoranza ignoranza non intesa di ignoranza proprio ignoranza nel tempo nel modo proprio duro e crudo da proprio non so se avete capito cosa intendo dire che difende quella grossolanità ecco è grossolano e piace all'italiano è l'italiano medio che si esibisce con fierezza è la sporcizia questa immagine è bellissima è la sporcizia che in altri tempi avremmo tenuto nascosti che ci saremmo vergognati di fare una cosa del genere ma oggi oggi si può fare oggi lo possiamo fare oggi i canoni sono spezzati e non li ha spezzati Achille Lauro erano già spezzati lui ha potuto fare quello che ha fatto sul palco perché i canoni sono già rotti è una questione di causa-effetto non è Achille Lauro fa questo quindi si rompe lo schema e lo schema è stato già rotto quindi Achille Lauro può fare quello che ha fatto sul palco i canoni sono già rotti sono già spezzati sono stati frantumati oggi oggi si può tirare fuori il marcio che c'è dentro di noi che abbiamo dentro perché il politicamente corretto e la serietà ormai non sono più importanti anzi sono visti come uno svantaggio nell'Italia che acclama il buffone di corte e cacciapedate il medico durante un'epidemia l'Italia oggi è l'Italia dei Novax è l'Italia che critica Burioni e che difende che difende un politico che non ha mai aperto un libro che non ha mai aperto un libro di un libro scientifico che non è andato oltre la seconda media che pretende di aver ragione su Burioni su questioni immunologiche l'Italia di oggi è questo l'Italia di oggi è la totale assenza di limiti che ci frenavano un tempo e che oggi non frenano più oggi possiamo fare quello che vogliamo a volte è positivo a volte è negativo la libertà di espressione Achille Lauro viene visto come portatore della libertà di espressione lui che si mette a nudo e che si mette in mostra per ciò che è realmente il problema è che quello che mette in scena non è il vero Achille Lauro è un prodotto costruito a tavolino e qui c'è una grande iprogesia c'è una grande menzogna c'è un grande incanno scenografico comunque tornando invece alle mie esternazioni con i vicini che continuano a trapanare ormai non ci faccio più nulla oggi si può tirare fuori il mar ce l'abbiamo già letto in fondo il medico in fondo il medico oggi non serve non serve il medico se c'è il buffone di corte che ti dice che va tutto bene no questo esempio non lo faccio questo esempio non lo faccio questo esempio ho evitato di farlo mentre nel post scritto ed eviterò di farlo anche qui in live su Instagram Sanremo comunque tornando a Sanremo Sanremo è ciò che è sempre stato Sanremo non cambia mai cambiano i cambiano di continuo per non cambiare mai cambia di continuo per assingondare il grande pubblico pronto ad applaudire e allo stesso tempo a parlare male coperto dal suono scrosciante degli applausi io ti applauso bravissimo campione però sei una merda quando smettono gli applausi quando tu non sei più sul palco bravo 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 poi tu scendi dal palco buuu fai schifo ecco questo è Sanremo questo è il vero Sanremo è un'ipocrisia continua è una bella facciata che nasconde tanta merda Sanremo Sanremo è l'uomo nudo sul palco che bussa i citofoni per chiedere un aiuto al televoto che stanno facendo dei lavori e hanno iniziato a luglio e siamo a febbraio e non hanno ancora finito Sanremo è l'uomo nudo sul palco e che bussa ai citofoni per chiedere un aiuto al televoto ogni riferimento a fatti di cronaca recente è puramente casuale Sanremo è la torta in faccia al maestro d'orchestra durante le esibizioni alla corrida Sanremo è l'altro volto della corrida la corrida e Sanremo riflettono l'anima dello stesso popolo dell'Italia lo stesso momento storico sono due facce della stessa medaglia Sanremo è la torta in faccia al maestro d'orchestra durante le esibizioni alla corrida e in questo non c'è assolutamente nulla di nuovo Sanremo è sempre stato così lo era 50 anni fa lo era 70 anni fa lo era 10 anni fa e lo sarà tra 20 anni Sanremo non cambia mai non c'è quindi nulla di strano non c'è nulla di innovativo nulla di nuovo nulla di geniale in quello che ha fatto Achille Lauro non c'è nulla letteralmente c'è il solito vecchio classico festival di Sanremo il festival della musica italiana dove la musica in realtà conta poco dove conta la polemica la chiacchiera su cosa ha detto e cosa ha fatto il presentatore questo Sanremo è iniziato con una grande polemica su una frase detta cazzo da Amadeus e continua inizia effettivamente il festival con una polemica sul modo di vestire di un cantante non sulla canzone non su quello che dice la canzone è ridicolo pensare che l'anno scorso Achille Lauro parlava di drogarsi parlava di extrasi in una canzone diceva che andava fiero di drogarsi e non se n'è parlato non se n'è discusso non c'è stata alcuna polemica quest'anno si fa polemica sul modo in cui è vestito è ridicola come cosa no e questo Sanremo appunto è totale sbilanciamento di cosa importante di cosa non lo è di cosa ha senso dire e cosa non ha senso dire è il solito vecchio classico banale mediocre festival di Sanremo il festival della musica italiana dove il ritmo è dato dagli applausi e l'orchestra suona cori fischia e per macchie dove dove il cantante potesse una polemica sulle parole del presentatore o sul comportamento di uno dei concorrenti o sul vestiario di una delle vallette o chissà qual'altra ragione mentre un uomo all'interno del teatro finge il suicidio salvo poi essere indotto a cambiare idea dal conduttore a Sanremo è successo anche questo presentava Pippo Baudo c'era l'operaio che aveva perso il lavoro che minacciava di suicidarsi a Sanremo poi Pippo Baudo è intervenuto gli ha fatto cambiare idea gli ha salvato la vita Sanremo è questo Sanremo è questo e mentre sul palco l'uomo finge ogni scena ogni cosa possibile per attirare l'attenzione dietro le quinte un artista un vero artista tende una corda pendente dal soffitto mi ricevi il rischio ovviamente a Luigi Renco l'esibizione di Achille Lauro è perfettamente in linea con ciò che è Sanremo non dite il contrario non dite che Achille Lauro ha rotto gli schemi perché io ci vedo nella sua esibizione la classicità pura di Sanremo l'esibizione di Achille Lauro a Sanremo riflette totalmente perfettamente la società italiana del momento di questo dato momento non c'è nulla di diverso da Achille Lauro sul palco e la politica di Salvini che bussa un citofono e chiede scusi ma lei spaccia è la stessa cosa è la stessa logica è la stessa Italia che permette entrambe le due cose e visto che Salvini ha citofonato prima dell'esibizione di Achille Lauro come diceva questo induce un principio di causa effetto non è Achille Lauro che ha rotto gli schemi gli schemi erano già rotti erano già rotti e lui ha potuto mettere in atto questo spettacolo perché? perché era già possibile farlo non è che è stato reso possibile da lui lui ha fatto una cosa che era canonica lui quando ha presentato Dumanna ed è stato ammesso a Sanremo come concorrente chi lo ha accettato sapeva che Achille Lauro era un personaggio sopra le righe sapeva che era un personaggio particolare al limite del trash di cattivo gusto sotto certi aspetti sapevano che era un cantante che trattava determinati temi nelle proprie canzoni sapevano che raccontava determinate cose che si poneva in un determinato modo lo sapevano lo hanno accettato lo hanno voluto lo hanno messo su quel palco era tutto tra virgolette calcolato in maniera più o meno diretta e fingere di essere sorpresi dall'esibizione con due settimane di prove alle spalle è show business signori è show business è tutto ciò che è sempre stato Sanremo aggiungo che questa cosa scandalo il modo ridi strano in cui si è vestito e cosa qualcuno dice ridicolo qualcuno dice scandaloso qualcuno dice sopra le righe io dico semplicemente pittoresco non è una novità Lady Gaga si è vestita di prosciutto Madonna si è esibita praticamente nuda Miley Cyrus nuda su una palla su una palla come si chiama lì demolitrice Ariana Grande con la canzone che ha fatto scandalo e scalpore qualche settimana fa è tutto già visto e sono polemiche inutile tutto è stato già detto aggiungo in conclusione ritornando a quello che dicevo in apertura col secondo post che Gigi Allen negli anni 70 80 inizio anni 90 si spogliava nudo sul palco defecava sul palco di fronte al proprio pubblico cospargeva il proprio corpo con le proprie calde feci fumanti appena sformate e si esibiva cantava trash a un livello assurdo ed è lo stesso tipo di spettacolo Allen non era un musicista serio non era un grande musicista faceva cagare come musicista oggettivamente e faceva le stesse cagate che fa Laura anzi a un livello addirittura decisamente superiore come dicevo anche in apertura live i V rompevano gli strumenti sul palco Hendrix ha dato fuoco a una chitarra Hendrix non aveva bisogno di dar fuoco a una chitarra per far parlare di sé vedo Proto Fratra che sta seguendo la diretta Hendrix che ancora oggi ha diversi decenni dalla propria scomparsa è ancora considerato il più grande chitarrista mai esistito lui non aveva bisogno di fare scena di dar fuoco a una chitarra per rendere epica la sua esibizione eppure l'ha fatto anche lui ha utilizzato tecniche di show business così come ha fatto Lauro giocare col pubblico giocare col marketing far parlare di sé al di fuori della canzone dell'esibizione canora non è una novità non è nuovo e e saremo per modo di dire ma è la musica in generale è così da quando la musica ha smesso di essere cioè è veramente il buffone di corte che si dà la torta in faccia e diverte gli spettatori comunque io vi ringrazio a tutti per aver seguito questa diretta il video verrà ripubblicato su IGTV e non credo che pubblicherò il podcast di questo episodio vi invito comunque nel caso a recuperarla se vi siete averti la parte iniziale grazie a tutti per aver guardato noi ci vediamo stasera martedì mercoledì alle 18 con il terzo e ultimo video della rubrica miti neoborbonici e poi ci vediamo martedì prossimo venerdì prossimo in live sul mio canale Twitch e ogni mercoledì su YouTube con un video e poi occasionalmente quando capita con delle live qui su Instagram dopo pranzo pomeridiane mattutine serali quando mi gira farò una live quando ho qualcosa da dire ecco farò queste dirette che spero possano interessarvi grazie a tutti per aver guardato un saluto a tutti e ho sempre difficoltà a terminare e e